È stata una precipitazione del tutto ordinaria, quindi non si è trattato di un evento di chissà quale portata, però nonostante questo sicuramente ci sono stati molti disagi per i cittadini e anche per i commercianti che già dalle prime ore hanno dovuto spalare le proprie abitazioni dall'acqua, dal fango e anche le proprie attività commerciali. Non si è trattato di un evento straordinario come dicevo poco fa e quindi è venuta a mancare proprio la manutenzione ordinaria della città dai canali, dai tombini e ciò naturalmente porta poi a dover fronteggiare questi eventi in maniera del tutto eccezionale. C'è stata anche la chiusura delle scuole a metà mattina, questo ha creato notevoli disagi per le famiglie, problemi organizzativi come possiamo immaginare per i genitori che hanno dovuto rivedere i loro programmi della giornata. Noi chiediamo sicuramente un cambio di metodo all'amministrazione che dovrebbe preoccuparsi di questi eventi prima che accadano.